Bentornati, bentornati a tutti. Volevo oggi parlare ancora di ricorsione, come avrete detto dal titolo. Ho fatto questo piccolo programmino, se vi può interessare lo posso anche mettere da qualche parte, se qualcuno lo volesse, ma penso che sia più utile da vedere, piuttosto che non da fare. Questo praticamente è uno dei cosiddetti alberi frattali, che sono degli alberi che possono essere costruiti seguendo una struttura ricorsiva. Iniziamo a vedere un attimo come funziona. Abbiamo un ramo principale, un tronco, da questo esistono due diramazioni. Per ognuna di queste diramazioni ci saranno altre due diramazioni, e per ognuna di queste due diramazioni altre due, e così via. Fino ad arrivare all'infinito, in teoria, fino a quando poi diventano praticamente invisibili, perché poi le diramazioni, ogni ramo è anche un po' più piccolo di quello successivo. Quindi in teoria questo dovrebbe andare bene all'infinito. Il problema è che, come vi ricordo, siamo su un computer, quindi probabilmente l'infinito non può mai esistere, non può mai essere compreso da una macchina all'infinito. Invece può esistere fino a un certo limite. Quindi una volta posto il limite di lunghezza uguale a questa roba qui, se noi andiamo ad aumentare la lunghezza iniziale, vedete che questa lunghezza iniziale aumenta e poi tutte le volte diminuisce, eccetera, 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 fino ad arrivare alla stessa lunghezza piccola che avevamo visto prima. Questa forma simile a quella di un albero, tra l'altro può essere leggermente modificata, cambiando l'angolo che c'è fra un ramo e una delle sue due diramazioni. e questo è il risultato. Poi si possono creare anche delle forme molto particolari e non la pensavo che potesse essere bello e carino da vedere, quindi è anche utile per capire la ricorsione. Al di là di questo vi faccio vedere un attimo poi il vero e proprio codice che va a crearlo. Questa applicazione che ho fatto l'ho fatta con Unity, quindi lasciate perdere la maggior parte di questa roba scritta qua. Vorrei che vi concentraste su due cose. Intanto che esiste questa funzione branch che sta per ramo, dove praticamente che cosa succede? Quello che ci interessa è che la ricorsione avviene sulla variabile lunghezza. La variabile lunghezza appunto parte da un certo valore, abbiamo visto che se la facciamo partire dal massimo, giusto? Parte, che ne so, dal valore della lunghezza di questo albero e poi tutte le volte viene diminuita. Ok? Ma quando la lunghezza è maggiore di 0,1 si fanno delle cose. Quando sarà minore di 0,1, che sarebbe il nostro caso base della ricorsione, non si fa più nulla. Quindi questa, potete vedere, è una funzione che il caso base è un non fare nulla. Ok, dicevo. Quindi poi guardiamo questa chiamata ricorsiva. Che cosa succede? Che la lunghezza viene moltiplicata per un modificatore, come se venisse diminuita ogni volta. Immaginatevi che il modificatore, tra l'altro, c'è scritto qua quanto vale. 0,69. Quindi vuol dire che ogni volta la lunghezza verrà moltiplicata per 0,69, che sta a dire che questo ramo, questo ramo qua più piccolo, è 0,69 volte questo ramo più grande. D'accordo? E la ricorsione avviene sulla variabile length, perché appunto quando length arriva a essere minore di 0,1, la ricorsione non va più avanti e viene interrotta, perché non viene più richiamata di nuovo la funzione stessa. Molto bene. Questo era soltanto per farvi vedere questo piccolo programmino che ho fatto a tempo perso, per farvi vedere questi alberi frattali. Sono molto, molto carini. Quindi oggi invece volevo poi farvi vedere la creazione di un metodo simile a quello che potreste trovare in un esame, e quindi una specie di simulazione di questo. Allora, quando vi troverete l'esame vi troverete con una roba del genere. C'è una consegna dove ci sarà scritto che questo è l'esercizio 2, perché l'esercizio 2 è sempre quello ricorsivo, con x punti che verranno dati, eccetera, eccetera. La prima cosa che notiamo è che ci viene richiesto di scrivere un metodo wrapper. Che cosa vorrebbe dire? Il metodo wrapper sarebbe quello, come la piadina, che mi fa sempre pensare a dei ricordi bellissimi, che cosa fa? Praticamente avvolge tutto il suo contenuto semplicemente per una questione di semplificazione. Per cui è esattamente quello che fa il metodo wrapper. Esiste questo metodo E2, che va a fare nient'altro che a chiamare questo, l'altro metodo, E2R. Semplicemente questo. Quindi non, diciamo, serve soltanto a semplificare il fatto, perché se... a semplificare la scrittura. Perché se notate, E2 ha soltanto un parametro di tipo Array, quello che poi adesso leggeremo bene, che cosa fa, eccetera, eccetera. Però lui ha soltanto un parametro. Questo invece, la versione ricorsiva, deve averne due. E scopriremo anche questo il perché tra poco. Quindi, la cosa importante del metodo wrapper è che ci permette di fare la covarianza, la controvarianza, di cui parleremo anche di questo tra un attimo. Però ricordatevi che è importante, perché ci permette appunto di semplificare la scrittura di un metodo da un solo parametro a... cioè da due parametri a un solo parametro. il che è molto positivo, perché poi è quello... è il metodo wrapper che verrà poi chiamato nella classe di test che ci sarà... che useranno poi i professori, che potete usare anche voi all'esame, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, andiamo a leggere effettivamente come implementare, come fare l'esercizio 2, perché noi siamo davanti a un foglio vuoto, a un editor di testo vuoto, e dobbiamo riuscire a riempirlo di questa roba qua che ho riempito io. Ok? Quindi, come si può fare? Allora, intanto le prime cose sono molto semplici, perché ci dicono esattamente che cosa fare, cioè ci dice e2 ha un parametro ar di tipo int. Perfetto. Di tipo int vettore, di tipo array. Bene, quindi semplicemente lo andiamo a scrivere. Andiamo a scrivere e2. Adesso io ho già messo che è void, ma voi questo in teoria all'inizio non lo sapete. Questo lo scrivete sempre, questo lo scrivete sempre. Qua non sapete che è void, però sapete che ha un parametro ar di tipo array interi. Perfetto. Quindi fino a qua è che si chiama e2. Giusto? Abbiamo detto così. Quindi, boh, fino a qua siamo a posto. D'accordo? Poi lo scopriamo dopo che e2 modifica l'array, quello che è stato chiamato, quello che è stato passato come parametro, richiamando un metodo void ricorsivo covariante e2r, insomma, modifica un array, quindi non ha un valore di ritorno. Se ci fosse un valore di ritorno ce lo dovrebbero dire. Non dicendocelo, io vado ad assumere che sia void. E quindi poi anche l'altra, sarà la funzione vera, quella che fa poi i vari passaggi, anche quella sarà void. E va bene. Poi che cosa vado a controllare? Dice che modifica l'array. Cioè qua è la parte dove dobbiamo cercare di capire bene come fare il metodo iniziale, il metodo wrapper. Perché? Che cosa ci dice? Modifica l'array richiamando un metodo void ricorsivo covariante. Vabbè, il metodo void ricorsivo covariante lo andiamo a implementare dopo e con le seguenti caratteristiche. Quindi ci sta dicendo. Inizia a fare questo metodo wrapper. Cioè scriviti lì la tua parte di codici dove dovrai ricordarti e poi richiamare l'altra funzione. Però vai e passa a fare il metodo ricorsivo covariante. Allora, piccola nota. Che cos'è la covariance e cos'è la controvarianza? È molto semplice. La controvarianza è quella che ci permette che Allora, aspettate. Preambolo. Bisogna ricordarsi che quando si fa ricorsione sui vettori non si fa la ricorsione come abbiamo visto sui numeri dove semplicemente si richiama la funzione per un numero diverso ma si fa scorrere un indice quindi si richiama la funzione passandogli anche un indice diverso. Nel nostro caso la variabile i. Ok? Detto questo questo lo si può fare in diversi modi. Uno di questi è la covariance. La covariance è quella che vedremo in questo esercizio ovvero si parte dalla fine dell'array e ogni volta si richiama la funzione sui meno uno. D'accordo? Quindi questa è la covariance. La controvarianza fa il contrario cioè parte qua da zero e richiama la funzione sui più uno. E invece che fermarsi a quando l'indice diciamo approccia l'inizio del vettore ci si ferma quando l'indice approccia la fine del vettore. Molto bene quindi una volta data questa piccola definizione di covariance e controvarianza andiamo a vedere esattamente che cosa vuole fare il metodo. E2R sostituisce ogni adi con il contenuto della cella precedente se questa è dispari. Quindi se la cella precedente è dispari allora quindi anche in qua vediamo che E2R non è che fa una cosa unica fa una cosa solo se c'è una condizione quindi nel caso se la cella precedente è dispari quindi la prima cosa sarà sempre come vi dicevo nello scorso video immaginarvi il caso base il caso più semplice possibile ovvero per esempio un array lungo 2 in questo caso con due numeri con due numeri è facilissimo perché partendo dalla fine diciamo se la cella precedente la copio se no no e non faccio niente quindi esattamente quello che sto dicendo ovvero sto dicendo che se E1 ovvero io mi trovo nella cella di posizione 1 la cella di posizione 1 vi ricordo che è quella che è fatta in questo modo ok cioè l'array è fatto così ci sarà un numero n e un numero m quindi questo è quando i è uguale a 1 noi ci troviamo a controllare questo e cosa facciamo controlliamo se ad meno 1 ovvero n è dispari allora andiamo a copiarlo e allora questo diventa n ma solo se questo è dispari se invece questo non è dispari lasciamo non facciamo nulla e passiamo e abbiamo finito cioè nel caso del vettore semplice con due elementi è finito abbiamo finito la nostra funzione nel caso in cui ce ne siano di più quindi n m e facciamo c per esempio dobbiamo sempre fare un controllo perché ricordatevi che noi partiamo da c perché è covariante nel caso in cui fossimo partiti da n sarebbe stato controvariante quindi nel caso della covarianza partiamo da c andiamo a controllare quella precedente diciamo è dispari qua non lo so perché sono lettere quindi se è dispari bene lo copiamo quindi andiamo a mettere m dopodichè passiamo a questo quello prima è dispari mettiamo caso no allora lascio m e lo lascio così esattamente quello che fa così però chiaramente poi devo poter passare da questo elemento a quello precedente e quindi devo andare a richiamare ricostivamente la funzione quindi nel ramo dell'else che il ramo dell'else è quello con con lunghezza lunghezza maggiore di 2 che cosa va a succedere appunto c'è sempre la solita selezione come qua c'è sempre lo solito if che fa esattamente la stessa identica cosa però in più c'è la chiamata ricorsiva per andare a passare al numero precedente molto bene mancano ancora un paio di cose che non abbiamo spiegato non abbiamo spiegato i casi limite ovvero quando sarete all'esame sicuramente verrete testati con qualcosa del genere ovvero verrà passato alla vostra funzione un array nullo e un array vuoto cioè di lunghezza 0 nel nostro caso un caso limite è anche quello di lunghezza 1 perché non esiste una casella precedente in quel caso lì quindi sono tutti i casi limiti bisogna ricordarsi che io preferisco non metterli nella funzione ricorsiva stessa ma nel metodo wrapper ma è una questione di decisione personale quindi ricordarsi sempre che se l'array è nullo che cosa potrà mai succedere che non faccio nulla non posso modificare i valori perché non ho valori stessa cosa con la lunghezza 1 e stessa cosa con la scusatemi stessa cosa con la lunghezza 0 e stessa cosa con la lunghezza 1 quindi ricordarsi che al massimo si può mettere sempre una scritta return che ci permette di ritornare e finire la funzione subito senza fare alcun cambiamento adesso io qua ho messo nella stessa metodo cioè nella stessa classe anche il main per testare le cose molto bene che sia un pochino più veloce da fare però molto spesso ve lo troverete in un'altra classe questo non è un problema andiamo a compilare la nostra ricorsione la nostra il nostro file andiamo a eseguirlo e vediamo che escono tutti true questo è molto rassicurante perché significa che questi test sono stati tutti superati attenzione attenzione perché questo non significa che il vostro programma sia al 100% giusto magari ha degli errori che però non vengono visti da queste classi di test ora io vi consiglio di riprovare a fare questo esercizio e volendo anche di passarci questi parametri o altri di vostra invenzione per controllare anche appunto se il lavoro svolto da me quindi se questa implementazione della funzione è corretta io detto ciò vi saluto e vi ringrazio per la visione e ci vediamo nella prossima lezione